Upas, trame settimanali al 16-2, Rosa viene minacciata, Diana è sospetta di Flavio. L'anteprima della puntata di Un posto al sole, che andrà in onda nella settimana del 12 al 16 febbraio, mostra Rosa minacciata da un gruppo di criminali che cercano di farla uscire di casa. Molti intrighi si svolgono sullo sfondo del Carnevale e di San Valentino. Serena e Filippo vogliono organizzare una festa in maschera per la piccola Irene, ma qualcosa continua a preoccupare la ragazza. Nel frattempo Riccardo è assorto in un bacio appassionato con Virginia a Milano. Tuttavia, Michaela sarà delusa dal fatto che Samuel non abbia ricevuto un regalo per San Valentino. Ma c'è spazio anche per l'amore intenso tra Ida e Diego, travolto dalla passione. Luca, infine, vive un episodio molto significativo che conferma il peggioramento della sua situazione clinica. Lunedì 12 febbraio, Ornella ha dei dubbi su Luca. Ornella comincia a sospettare che in De Santis ci sia qualcosa che non va. Tuttavia, i medici non credono affatto che l'uomo abbia il morbo di Alzheimer. Nel frattempo Giulia dà a Luca il suo pieno sostegno. Filippo e Serena organizzano una festa di carnevale per la piccola Irene, che dovrebbe riportare la ragazza di buon umore, ma qualcosa va storto. Martedì 13 febbraio, Riccardo pensa ancora a Virginia. Riccardo continuerà a pensare a quanto successo con Virginia al Milan. Nel frattempo anche Rosella viene a sapere cosa è successo. Raffaele e Ornella sembrano preoccupati per la crescente dipendenza di Luca da Giulia. Dopo aver interrotto una festa organizzata dai suoi genitori, Irene si chiude in sé stessa. Mercoledì 14 febbraio, Roberto e Marina sono convinti di essere i veri genitori di Tommy. Roberto e Marina sono un passo avanti verso l'obiettivo di crescere Tommaso come un figlio. Quest'ultimo diventerà molto vicino a Diego in quel periodo. Sostituendo completamente Aida. Rosella viene a sapere che Riccardo ha incontrato la sua ex fidanzata a Milano e sospetta che tra loro sia successo qualcosa. Samuel è convinto che Michaela non sia interessata alle festività come San Valentino e non le fa un regalo, ma Michaela sarà molto turbata. Giovedì 15 febbraio, Flavio invita a cena Filippo e Serena. Rosa deve succombere alle forti pressioni dei personaggi per convincere la donna a lasciare l'appartamento. Filippo e Serena accettano l'invito a cena di Flavio Bianchi, ma non si rendono conto che l'uomo nasconde un lato oscuro. Riccardo dimostrerà di essere disposto a grandi sacrifici pur di sposare Rossella. Nel frattempo, Diego e Aida sono travolti dalla passione, ma decidono di mantenere segreta la loro relazione. Venerdì 16 febbraio, Rosa è minacciata Rosa è costretta a difendersi dalle minacce dei criminali che le chiedono di lasciare la sua casa. Nel frattempo, Clara avrà paura di come si svolgeranno gli eventi. Diana si rende conto che Flavio non è quello che sembra e capisce che l'uomo è coinvolto in affari loschi. Alla fine, Jimmy finisce per insegnare a suo nonno l'importanza di proteggere l'ambiente.